In realtà è l'acronimo di una parola che non esiste in inglese, Recity Size. Noi ci eravamo chiamati così all'inizio della nostra avventura, poi ci siamo accorti che il nome era troppo lungo, troppo difficile, doveva fare spelling eccetera, per cui l'abbiamo sintetizzato in Rex. Recity Size è un po' il significato di rimmaginarsi la dimensione della città, ma in generale insomma rimmaginare la città. Siamo partiti da questa consapevolezza che se noi pensiamo che nel 2050 circa due terzi della popolazione mondiale andrà a vivere nelle città, quindi vuol dire che nei prossimi vent'anni si sposteranno 2.5 billion di persone dalle campagne alle città, quindi è necessario rimmaginare la città. La città come esiste in questo momento, se non la cambiamo, implode. Raccontaci un po' di quali sono i vostri progetti nello specifico. Dunque, il nostro core è fuori dall'Italia costruire Torri e Masterplan, ma in Italia noi facciamo tutto, cioè ristrutturiamo, facciamo interior design, facciamo nuove edificazioni, facciamo condomini, facciamo ville, per cui insomma il nostro background ci permette di gestire un po' a 360 gradi tutte le esigenze del mercato italiano. E questo è quello che mi interessa di più promuovere. Abbiamo due studi, uno a Milano, uno a Parma, circa 30 persone che lavorano e all'interno dello studio abbiamo tutte le professionalità, quindi dallo strutturista all'ingegnere, allo specialista di landscape, quindi di verde, all'interior design. Utilizziamo mezzi sofisticati, ormai siamo pratici con l'intelligenza artificiale e quindi riusciamo a renderizzare in maniera veramente velocissima tutte le nostre visioni, i nostri sogni che cerchiamo di trasmettere al cliente, per cui insomma siamo tecnologicamente avanzati. Una parola, voglio spenderla sulla questione costi, molti appunto avendo studi anche all'estero, quindi il nostro sito internet fa vedere cose, torri, grattacieli eccetera eccetera, ma anche cose piccole, e quindi la gente a volte è spaventata sul prezzo. In realtà non è così, insomma, noi siamo competitivi, quindi potete chiederci tutti i preventivi che volete, insomma siamo in grado di soddisfare però con un'esperienza internazionale che quindi dà un valore aggiunto al nostro studio. Voi siete presenti come Rex Architects sia su Facebook, sia su YouTube, sia su LinkedIn, separati dal punto invece su Instagram, c'è anche il sito web www.rexarchitects.com, infoitaly-rexarchitects.com, l'indirizzo email 0521 93 92 40, invece il numero di telefono fisso, e siete presenti come dicevi a Parma in piazza Rastelli 41A e a Milano in via Quadrio 23. A questo punto Pier Maria qual è il tuo progetto futuro, qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora il sogno nel cassetto è quello di promuovere e finalmente veder realizzato un progetto che ho fatto da tanto tempo, che è un edificio multireligioso, è un edificio che può essere costruito, montato e smontato per i grandi eventi mondiali, quindi Expo, Biennale, Olimpiadi. La mia difficoltà è quella di promuoverlo, ce l'ho nel mio computer, non l'ho condiviso con nessuno, quindi questo è un po' il sogno nel cassetto. Per il resto i progetti futuri sono, soprattutto in Italia, progetti che riguardano la costruzione, come dicevo, di edifici con un occhio particolare alla sostenibilità e quindi all'utilizzo di materiali che sono materiali innovativi, che non andranno a ripercuotersi sul futuro delle prossime generazioni, perché questo è il concetto di sostenibilità. Per cui, insomma, stiamo attenti a questo e cerchiamo di proporre ai nostri clienti un approccio che guarda veramente al futuro. Io ti ringrazio per Maria di essere venuto qui a Storytime. Ok, grazie a te Claudio.